Chuck si gira! A tutto, reality, azione! Gli indimenticabili protagonisti dell'isola stanno per tornare. In una nuova fantastica location, sfide al limite dell'incredibile. Questa volta avranno il sapore di un film. Elettricisti urlanti contro macchinisti assassini. Pronti a tutto per vincere un milione di dollari. Mi piace questo gioco! A tutto, reality, azione. Da domenica 31 ottobre in prima visione su K2. Grazie a tutti!